Ben ritrovati su Teletraining.tv Io sono Alexander Autina del sito www.trendy.biz Oggi ci occupiamo della seconda lezione riguardante il software Metastock Bene, la volta scorsa ce l'avevamo lasciati con il grafico di Capitalia Il cano sopra lo ritroviamo subito qui, avendolo utilizzato recentemente Bene, lo apriamo Questo è il grafico di default La volta scorsa, forse i più attenti di voi avranno notato che il software aveva salvato in automatico il grafico Così come lo avevamo modificato Bene, perché Metastock salva questo tipo di grafico in automatico Indipendentemente dai cambiamenti che noi effettuiamo Semplicemente perché Questo tipo di grafico viene definito Smart Chart Ovvero Un grafico che viene di default abbinato da Metastock a ciascun asset presente nel nostro database Quindi qualsiasi modifica noi effettueremo sarà in automatico salvata Se vogliamo salvare più grafici per un singolo asset, per esempio su Capitalia in questo caso Bene, a questo punto dovremmo invece creare non uno Smart Chart ma un chart o proprio un grafico vero e proprio Questo è normale perché se si vuole effettuare più tipi di analisi su uno stesso asset Per esempio, non so, analisi tecnica classica, analisi ciclica, analisi intermarket, tre tipi di grafici in questo caso Bisognerà creare tre tipi di chart da salvare separatamente Come creare un chart? Clicchiamo sopra File, New Alla voce Chart Clicchiamo, selezioniamo il titolo di cui vogliamo creare il chart, il grafico In questo caso, regolgiamoci sempre a Capitalia Solite opzioni temporali che abbiamo già visto nella prima lezione Bene, questo è il grafico che ci appare Effettiamo le nostre modifiche, vedremo poi in seguito in dettaglio come farle Inserendo qualche media mobile, semplice Di vario tipo Le possibilità grafiche di Metastock, ve lo anticipo, sono notevoli Ed è sicuramente un'ottima piattaforma per disegnare Bene, abbiamo inserito qualche media mobile Tracciato qualche trendline A questo punto abbiamo creato il nostro grafico Se chiudiamo questo grafico, Metastock in questo caso ci chiede se salvarlo o meno Perché è un chart, appunto Clicchiamo sì Nominiamo il nostro grafico AAA Lo sto così per prova Cliccando Save Metastock ci salverà in automatico Il nostro grafico A questo punto abbiamo creato il grafico Il chart relativo a Capitalia L'abbiamo salvato Per ripescarlo, sempre File In questo caso Open Bene, c'è un menu a tendina, qua sotto Nella parte in basso Che ci chiede Quale tipo di file vogliamo aprire In questo caso noi non cerchiamo lo Smart Chart Cioè il grafico abbinato di default A singolo asset Ma cliccando sul menu a tendina Andiamo a cercare proprio il chart In questo caso ci appariranno Cioè Metastock ci proporrà i grafici chart Che noi abbiamo salvato Ovviamente Nel nostro caso ne abbiamo solo uno Questo qua di prova Cliccando sopra Lo apriremo E troveremo Capitalia esattamente Così come l'avevamo lasciata Con tutte le modifiche da noi effettuate Quindi due concetti Il concetto di Smart Chart Grafico abbinato in automatico da Metastock Su ogni singolo asset Concetto di chart Ovvero di grafico Che da noi viene creato appositamente Per uno specifico asset E che dovremo salvare E chiamare di volta in volta Un solo Smart Chart Per ciascun asset Di default Più charts Eventualmente se vogliamo Per ogni asset Che noi desideriamo analizzare Questo è normale Naturalmente Perché se vogliamo appunto Come è ovvio che sia Fare più tipi di analisi Sarà necessario avere più chart Da creare e studiare Bene Dopo aver introdotto Il concetto di Smart Chart E il concetto di chart Prima di procedere oltre E cominciare ad utilizzare Funzioni interessanti Quali disegnare Inserire indicatori Effettuare studi Di analisi tecnica Veri e propri Con Metastock Bene E' necessario Ancora che io vi proponga Un terzo concetto Che è il concetto di layout Che cos'è il layout? Semplicemente il layout E' la possibilità Di salvare più grafici Contemporaneamente In modo che Il nostro lavoro Possa basarsi Su dei confronti grafici Questo E' naturalmente Normale Se vogliamo effettuare Analisi Tecniche Particolari Come l'analisi Intermarket Per esempio Se vogliamo Ad esempio Confrontare Il titolo Non so All'Italia Con L'andamento Della Borsa Italiana Nel suo complesso A quel punto Apriremo All'Italia Come abbiamo fatto Apriamo anche L'indice MIPT Per esempio Su uno stesso Arco temporale E Cliccando Sulla voce Window Potremmo Decidere Di visualizzare I grafici Contemporaneamente In questo caso Decidiamo Cliccando su Column Di visualizzarli Uno di fiamma Pianco all'altro E così In effetti Succede Questo tipo Di analisi In questo caso Ci permette Di stabilire Che l'andamento Generale Della borsa È stato nettamente Superiore A quello Del singolo Titolo An Italia Bene Il layout Come si crea Semplicemente Avendo aperto I grafici Di nostro interesse Clicchiamo Su file New Layout Una finestella Ci indica I grafici Che attualmente Sono aperti Selezioniamo Il grafico Middle Add Da includere Nel layout All'Italia Anche Ebbene Così facendo Clicchiamo Ok E a quel punto Noi avremmo creato Un layout Se chiudiamo I grafici Lui Il software Ci chiede Se salvarlo E chiudere Il layout Per intero Clicchiamo Ok A questo punto Digitiamo Il nome Del layout In questo caso Semplicemente BBB Un'altra prova Cliccando Save Avremo salvato Il nostro layout Come fare Per ripescarlo Semplicemente Di nuovo File Open Menu A tendina Sottostante Il tipo Di grafico Che vogliamo vedere In questo caso Layouts Bene Lui Ci visualizza in automatico Tutti i layouts Che abbiamo a nostra disposizione C'è anche il nostro BBB Clicchiamo sopra E come vedete In questo caso Ci apre I due grafici Contemporaneamente Bene Anche per questa lezione È tutto Nella prossima Cominceremo A utilizzare Metastock Per fare Analisi tecnica Vera e propria Grazie Arrivederci